Baia Leverkusen 3 Lazio 0 termina alla Baia Arena il sogno Champions per i bianco celesti uscite con le ossa rotte dal match di ritorno contro i finalisti del 2002 la situazione era in perfetto equilibrio all'intervallo grazie alla rete di Kalianogu ma si è ribaltata con il raddoppio di Mehmedi e la terza rete di Bellarabì Pioli e i suoi avevano pagato a caro prezzo un errore difensivo proprio quando sembravano poter gestire la situazione e la spinta iniziale delle aspirine stava scemando il gol iniziale tuttavia e l'espulsione di Maurizio nella ripresa hanno contribuito purtroppo all'ennesimo fallimento di una squadra italiana e preliminare di Champions League alla Lazio di conseguenza retrocessa nell'altro Europa in Europa League restano certamente amarezza e tanti rimpianti ma anche un'inadeguata sessione di mercato quella estiva costituita da zero investimenti di valore per rinforzare una rosa che evidentemente non era all'altezza della massima competizione europea